Alla fine era più bordello che altro. Camion bloccato in località Braida Croce all'altezza del civico 53 Valperga nella serata di giovedì 7 dicembre intorno alle 18.30. Il mezzo pesante di nazionalità belga è rimasto incastrato sul ponticello con un treno di ruota nel fango a causa del navigatore che le ha indicato la strada sbagliata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vrea, i carabinieri della stazione di Cornier e il sindaco Walter Sandretto. Toccherà all'autogru sbloccare la situazione. La difficoltà nasce dal fatto che il camion è carico di materiale pesante. Disaggia il traffico veicolare con strada momentaneamente bloccata. Grazie. 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 Grazie.